La cosa importante è che al momento non ci sono nuove varianti, c'è la Omicron su cui gli italiani sono in sicurezza, quindi se ci fossero nuove varianti sarebbe un problema. Io conto che gli italiani possano trascorrere un capodanno e un'epifania tranquilli, se così non fosse si deve muovere l'Europa però, l'Italia da sola. Noi possiamo fare i tamponi a Fiumicino o a Malpensa, occorre che si muova l'Europa. Io questa mattina ho dialogato con la Commissaria europea ai trasporti, l'Europa per il momento non vede necessità di intervenire e quindi non posso che augurare buon anno a tutti perché gli italiani i loro compiti a casa li hanno già fatti abbondantemente.